beh il mio lavoro ragazzi di scopri cazzoni è molto semplice io semplicemente vado a vedere cosa dice radio radio che diciamo che è contro il sistema quindi per far capire come funziona la cosa qui c'è il sistema, il mainstream quindi pro ucraina dall'altra parte creano radio radio e altri minchioni del genere come contro per creare le due fazioni che è pro russia, quindi pro ucraina qua, pro russia di qua nessuno che parla dell'occhio che controlla tutte e due qua in alto ok nessuno che c'è ma c'è qui per voi Marcel Ming per fortuna quindi andiamo a scoprire questa tecnica come funziona quindi loro devono essere pro russia radio radio andiamo a vedere di cosa ci stanno ci stanno parlando di questo foto reporter che sta rischiando perché è contro l'ucraina quindi andiamo a vedere andiamo a vedere subito questo bel audio beh ho detto audio ma intendevo video sentiamo e così ci parliamo è Giorgio Bianchi, foto reporter e documentarista che è collegato con noi e al quale diamo il buongiorno buongiorno Francesco, buongiorno Fabio buongiorno ai vostri ascoltatori, grazie dell'invito ciao Giorgio, ciao ecco noi stavamo parlando anche di te insomma di voi perché parlavamo di questa ormai questo metodo proprio ti ricordi il metodo boffo ecco questo sembra ricalcare un po' quello ma è ovviamente uno schema uno schema ben oliato da parte degli ingegneri sociali che serve praticamente a screditare chi vuole riportare le cose in modo indipendente in modo assolutamente terzo per mandare avanti altre teorie insomma Giorgio a te capita tutti i giorni ormai questo sì ma loro hanno diverse strategie la prima strategia è quella di ignorarti quindi lui ha detto che la prima strategia è quella di ignorarti vediamo se lui è veramente ignorato oh ma guarda lo ritroviamo qui sull'A7 questo qua invitato speciale sempre ovviamente fanno il teatro che tipo a volte lo attaccano a volte lo fanno parlare ovviamente lo andiamo a trovare anche su questo occhio qua apri on, luce eccetera eccetera l'incredito di storia eccetera 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 eccolo di nuovo l'A7 sempre lui questo biondo che sembra quello dei Mirvana molto occhi azzurri dopo lo vedremo difesa online guarda è sempre lui invitato oh ma guarda anche il TG3 ne parla guarda che roba ma incredibile incredibile qua vedo questo video la verità c'è come sfondo il giornale quotidiano non poteva mancare Bio Blue qua vediamo il logo Bio Blue uno scomodo testimone quindi poi vediamo Giorgio Bianchi ospita il TG3 nel mondo oh poverino non lo fanno parlare Heather Parisi ragazzi la nuova opposizione controllata che lo intervista ai 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 mi posso fidare di una così ragazzi io mi fiderei oh ma guarda ragazzi anche TG4 ne parla anche TG4 ne parla incredibile come è soppresso non lo fanno parlare ecco di nuovo Bio Blue qua vediamo qui altre interviste in tv questo è il canale che si chiama Oplot TV non poteva mancare l'altra opposizione controllata 100 giorni da da Leone ecco 100 giorni da Leone e qui c'è il nostro eroe di nuovo ma continuiamo a sentire il nostro eroe a piagnucolare qui quindi loro ti ignorano pertanto che cosa è successo scoppia comincia la guerra è scoppiata nel 2014 inizia quella che i russi chiamano l'operazione speciale chiaramente è una persona dotata di buonsenso cosa fa fammi andare a vedere chi in questi 8 anni si è occupata di questo conflitto che magari ha vinto dei premi internazionali ha fatto dei documentali ha fatto dei reportage ha fatto conferenze nelle università nelle scuole nei circoli ovunque in tutta Italia capito lui l'hanno inventato in università in circoli e ovunque forse perché è del sistema ma chi ti invita se parli della terza via diciamo non delle due parti che loro vogliono creare ma di una terza via cioè dell'occhio che controlla tutti e due i lati ma chi ti invita nel mondo invece loro che cosa fanno prendono dei personaggi di dubba fama di dubbia reputazione che magari quando ti chiamano dicono ma tu dove sei esattamente io dico a Donetsk come si scrive loro non sanno neanche dove io lo trovo ecco scusami Giorgio Giorgio scusami precisiamo tu dove sei ora ecco ripetilo io sono a Donetsk sono qui nel Donbass sono in quella che viene considerata la capitale dell'autoprogrammata Repubblica di Donetsk e ogni volta che mi chiedono mi interpellano non sanno neanche dove io mi trovo diciamo ma stai in Ucraina si aspetta poi diciamolo per la tua attività che dura ormai da tantissimi anni da otto anni almeno lì in Ucraina cioè tu hai ricevuto dei premi sei stato chiamato perché poi spieghiamole vediamo che ha ricevuto dei premi lui ragazzi andiamo a vedere questi premi allora vediamo i premi questi sono tutti i premi qua che se tu vai a vedere insomma chi sono questi che premiano diciamo se tu sei uno che non parla quello che vuole il sistema nessuno ti da tutti questi premi Pagorella guarda che robetta guarda quanti premi ha ricevuto lui ok ok Pagorella poi qui vediamo che lui pubblica per The Guardian The Guardian porca p***a National Geographic International Magazine 7 Corriere della Sera il venerdì il giornale la revue il manifesto gente 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 insomma io mi fiderei di uno così ecco altre mostre in cui il mostro ha partecipato ovviamente perché è molto scomulo no? e ti fanno partecipare allora vediamo che qui dice che Giorgio è rappresentato da Witness Image vediamo cos'è Witness Image allora il fondatore di Witness di Witness Image è un certo Luca Catalano Gonzano vediamo questo gonzo qua per chi lavora allora i suoi lavori sono stati esposti in musei gallerie festival a livello internazionale come Palazzo delle Nazioni Unite Nazioni Unite Pagora peggio di così non si può proprio siamo proprio lì nell'occhio Royal Geographic Society International Center for Climate Governance Climate Governance Parlamento Europeo peggio 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 collabora con organizzazioni quali Nazioni Unite UNHCR UNICEF Oxfam Fondazioni Migrantes peggio organizzazioni delle nazioni e dei popoli non rappresentati un po' Terre des Hommes i suoi servizi hanno ricevuto numerosi pre-intensioni tra cui Sony World Japan International Lewis Humanitarian oh boy oh boy le sue fotografie vengono pubblicate sul Time Newsweek National Geographic The Washington Post New York Times Le Monde Paris Le Figaro Il Paese Der Spiegel Espresso Internazionale insomma se dici la verità questa gente ti pubblica lo sappiamo il sistema ha fallito da 100 giorni da peggio e poi la 7 qui a fine peggio peggio ci farà uscire lui dall'ipnosi l'occhio dietro mazucco life mazucco life per te il vaso di Pandora a Pegora non è che per caso ti piacciono anche questi scordatelo a Pegora Ucraina uno scomodo testimone mamma mia sentiamo di più sentiamo queste cose perché qui arriva poi uno che non si capisce bene peraltro poi vai a vedere il curriculum di questa gente qua trovi delle cose allucinanti evitiamo di farlo perché qua non è la radio di pettegolezzi però voglio dire vogliamo informarci ecco chiediamo alla gente allora fatelo voi cioè se volete poi se tenete al vostro futuro a quello dei vostri figli ecco mettetevi insieme a Giorgio per cortesia se tenete al vostro futuro a quello dei vostri figli ok voi andate ad informarvi andate a dire ecco l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto vabbè l'ho fatto l'abbiamo fatto e abbiamo scoperto tutta la verità è anche un fan di Hegel a quanto pare e il suo canale telegram a 100.000 power